Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso di montaggio video con Adobe Premiere Bentrovati, abbiamo parlato nelle lezioni precedenti delle transizioni e delle dissolvenze Abbiamo chiuso quell'argomento, non lo aprirò di nuovo in questa lezione Oggi andiamo avanti, parliamo ancora degli effetti video Ma parleremo degli effetti video di default che è possibile trovare su ogni clip che inserirete nella timeline di Adobe Premiere Oggi parleremo della posizione, della rotazione, della scala e dell'opacità Ecco, vediamo queste quattro proprietà delle immagini, delle clip che troverete in ogni oggetto multimediale video in Adobe Premiere Prima però vi ricordo, se volete, il mio sito internet www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'elenco di tutte le lezioni che abbiamo fatto fino adesso su YouTube Con articoli di approfondimento Vedete quante lezioni fatte fino ad ora, ne faremo tante altre Anzi, forse siamo a metà? No, no, più o meno Dobbiamo ancora arrivare alla metà, immaginate quante cose ancora dobbiamo dirci Però, se vi siete persi qualcosa, se volete recuperare qualche argomento Qui trovate gli articoli riassuntivi E soprattutto, in fondo, un boxettino con la possibilità di commentare l'articolo Fare domande, chiedere, interagire Oltre che, chiaramente, qui sotto al video di YouTube A proposito di YouTube, se volete, se vi fa piacere Potete iscrivervi al mio canale, così da non perdere i video di prossima uscita Torniamo subito ad Adobe Premiere Eccoci tornati ad Adobe Premiere Come anticipato, oggi parleremo degli effetti che è possibile trovare Su ogni clip di Premiere in timeline In altre parole, quando portate un oggetto multimediale video e audio Nella timeline esistono degli effetti di default Che vi permettono, in qualche modo, di modificare delle caratteristiche comuni A tutti o quasi gli oggetti multimediali presenti in Adobe Premiere Quando selezionate un oggetto multimediale Nel pannello controllo effetti Vedrete comparire degli effetti di default Non li vedrete così, probabilmente li vedrete in questo modo Li chiudo Ci sono delle linguettine, come vedete, che permettono di espandere le singole proprietà Però ecco, di default Quando cliccate sopra un oggetto multimediale Questi sono i parametri che troverete sempre A cosa servono? Beh, è abbastanza intuitivo in realtà Però vediamoli comunque insieme Allora, il primo gruppo di effetti si chiama movimento Se cliccate sopra alla voce movimento Vedete comparire qui nel monitor Ok, nel monitor programma Una cornice azzurra Con delle piccole manigliette ai lati Come potete immaginare Già semplicemente cliccando sopra Al parametro movimento E cliccando col tasto sinistro del mouse Sopra queste maniglie E' possibile, vedete, scalare L'oggetto multimediale video Che appunto è selezionato nella timeline Mi sembra abbastanza intuitivo Però, 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 questo è un modo, se volete Comodo per interagire con l'immagine Ma è impreciso Perché se vi dovessero chiedere Ripristinate questa immagine Alla sua condizione originale del 100% di scala Oppure, se vi dovessero dire Scalate questa immagine del 50% O del 150% Come dovete fare? Come fare per essere precisi? Bene, se voi cliccate a sinistra Della voce movimento Su questa linguettina Troverete esattamente i parametri Su cui io sto in questo momento interagendo E in particolar modo trovate la scala La scala è una proprietà Che ci permetterà di ridimensionare La grandezza della clip video Che stiamo lavorando in un determinato momento In questo caso la scala è all'88% Sappiate che il 100% è la condizione di default Quindi 100% uguale l'immagine com'è Di default Quindi quando la portate dentro la timeline Potete scalarla sia con queste maniglie Ma anche cliccando con il tasto sinistro del mouse Sopra alla percentuale Tenere premuto E spostando il mouse verso destra Per ingrandire O verso sinistra per rimpicciolire Vedete, sto tenendo premuto ancora Il tasto sinistro del mouse Mentre muovo il mouse a sinistra o a destra È esattamente la stessa cosa Che usare queste piccole maniglie Per ripristinare la grandezza di default Digitate 100% qui nella voce della scala Oppure se fate caso Come già anticipato qualche lezione fa Sulla destra ci sono queste freccettine Basta cliccare su quella corrispondente al parametro che avete modificato E viene ripristinato il parametro di default In questo caso 100% Prima di andare avanti Una raccomandazione Sappiate che voi state lavorando Delle immagini Si dice rasterizzate Anche se probabilmente non è l'aggettivo più corretto Parlando di video Però sappiate che sono delle immagini Composte da pixel Quello che vedete sostanzialmente È un insieme di pallini Di puntini Chiamati pixel L'unità più piccola In cui è possibile dividere un'immagine L'insieme di questi pixel Ci permette di vedere l'immagine nel suo insieme Cosa voglio dire? Voglio dire che se voi andate Ad ingrandire l'immagine troppo Alla fine chiaramente perderete definizione Ora ho molto esagerato Per farvi vedere bene quello che succede Guardate questa scritta Non è che è sfocata di suo È proprio che ingrandendo l'immagine Esageratamente Inevitabilmente si perdono informazioni Vedete questi pixel giganti Che vengono resi visibili Proprio dal fatto che siamo andati molto oltre Come orientarsi? Allora il consiglio che vi do Tendenzialmente è Evitate di ingrandirle le immagini A meno che non è strettamente necessario Chiaramente un pochino si può andare oltre Fino al 120-130% Si perde qualità Ma tutto sommato A seconda di quello che dovete fare Chiaramente se dovete lavorare un film per il cinema Ecco non lo fate mai Però se la vostra esigenza è mostrare un dettaglio Non so se state facendo un telegiornale Un notiziario o qualcosa Ed è importante che si veda un pochettino meglio Quello che accade nel filmato Ecco potete tranquillamente ingrandire Sta un po' la vostra sensibilità Non esagerare con la scala Per le fotografie La raccomandazione è sempre di procurarvi delle immagini Con una risoluzione molto grande Facciamo un esempio pratico Io voglio importare in Premiere Una fotografia di uno skyline di una grande città Ok? Cosa voglio dire quando dico di procurarvi delle immagini Molto grandi Con risoluzioni importanti Utilizziamo il motore di ricerca Google Immagini Per cercare l'immagine di una skyline Ok? Come potete vedere Tra gli strumenti C'è la possibilità di scegliere la dimensione dell'immagine Ora Proviamo a scaricare due immagini Una molto piccola E una invece come dovrebbe essere Quindi di dimensioni esagerate Allora Scarichiamo un'immagine media Ok? Scegliamo un'immagine che può piacervi Per esempio questa Una raccomandazione importante Quando lavorate con Google Immagini Per evitare problemi di copyright Visto che è giusto che Chiaramente il materiale Prodotto da un artista O da un fotografo Venga riconosciuto A quel fotografo O quell'artista Se dovete lavorare Con delle immagini di Google In produzioni Chiaramente assicuratevi Di avere diritti Se non li avete Andate qui sulla voce Diritti di utilizzo E cercate immagini Che siano contrassegnate Per essere riutilizzate Anche con modifiche Ecco Per esempio Queste sono immagini Che Google Mi segnala Essere autorizzate All'uso Anche con 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 modifiche Sono immagini Di media qualità Prendiamone una Carina Per esempio Questa Scarichiamola E importiamola Chiaramente In Adobe Premiere E come potete vedere Questa immagine Da queste informazioni Ha una risoluzione Di 960 pixel Per 521 Che cosa vuol dire Vuol dire che Come ho già spiegato Nelle lezioni Di introduzione A questo corso Questa fotografia Ha 960 pixel Nella sua lunghezza Orizzontale E 521 pixel Nella sua Altezza Verticale Ora Noi abbiamo creato Un progetto Invece In HD Ovvero A 1920 pixel In orizzontale E 1080 pixel In verticale Se io vado a portare Questa immagine Trascinandola In questo caso Dentro la mia timeline Guardate cosa vedrò Vedrò Normalmente Correttamente Un'immagine Che è più piccola Del mio fotogramma Se vado a vedere Nel controllo effetti Nel pannello controllo effetti La scala È al 100% Perché questa È la reale dimensione Di questa fotografia 960 pixel Per 520 E rotti Ed è corretto Quello che voi potete fare Chiaramente È ingrandire Questa foto Aumentando la scala Quindi selezioniamo Il parametro scala Ingrandiamo E la adatto Però attenzione Anche se non è molto evidente Probabilmente in questo video Avete rovinato un po' La qualità Di questa immagine Può anche andare bene Tutto sommato Ma se dovete fare Un prodotto di qualità Sappiate che Ingrandire questa immagine Praticamente Più del doppio Come abbiamo fatto In questo caso Non è la scelta corretta Come dovete fare Torniamo su Google Ecco una volta su Google Invece di cercare Immagine di media dimensione Cercate proprio Immagini grandi Ok Sempre Contrassegnate Con la possibilità Di essere utilizzate E modificate Scegliamo Un'immagine Che a noi possa piacere Una vale l'altra Sono tutte molto belle Prendiamo questa Guardate per esempio La risoluzione Di questa immagine 4250 pixel Per 1724 E molto più grande Del nostro frame In cui stiamo lavorando Potrebbe andare bene Quindi scarichiamola Importiamola in Premiere Adesso Ecco la nostra immagine In Premiere Proviamo a portarla In timeline E vediamo cosa Accade L'immagine Copre perfettamente Il mio Il mio Il mio frame Non solo Questa immagine Va addirittura Oltre la grandezza Nel mio frame Siamo sempre Al 100% Ma guardate Clicco sopra La voce movimento Allargo un po' La visuale Invece che Utilizzare la voce Adatta Utilizzo una scala Del 25% Non sto modificando L'immagine Solo l'anteprima Qui nel monitor Nel monitor programma Ecco 10% Guardate Questa immagine Come detto Era grandissima Oltre 6000 pixel Per 1700 Vedete che L'immagine Va oltre Il bordo Del mio Del mio fotogramma Ok Io Poi vedremo Posso Posso chiaramente Spostarla Per scegliere Un'inquadratura Che mi piace Particolarmente Lasciando tutto Al 100% Quindi senza Alcuna perdita Oppure Molto più Semplicemente Posso Scalare L'immagine Per adattarla Alla grandezza Del mio Fotogramma Ecco qua Vedete che Più o meno Adesso Ingrandiamo Pure serenamente La visualizzazione Vedete che Io adesso L'immagine Ingrandiamola Ancora Un pochino Ok Va a coprire Esattamente Tutto il mio Spazio Tutto il mio Monitor Scalare In termini Negativi Non ha effetti Distruttivi Sulla qualità Dell'immagine Scalare In termini Maggiorativi Invece Si Quindi ecco Preferibile Sempre procurarsi Immagini Di buona Qualità Di buona Risoluzione Ma non solo Grazie Al Parametro Movimento Noi possiamo Anche spostare Questa immagine Come mi avete visto Fare prima Possiamo cliccare Sull'immagine Muoverla Con il nostro Mouse Oppure Possiamo giocare Con questi due Parametri Il primo Parametro Per l'asse Orizzontale Il secondo Parametro Per l'asse Verticale Se voglio Ripristinare La posizione A quella Di default Chiaramente C'è il solito Nostro tasto Per ripristinare Tutto Com'era C'è un'altra Caratteristica Importante Che può essere Utile Conoscere Che è Chiaramente La rotazione Sempre Cliccando E trascinando Il valore Potete ruotare L'immagine Vedete Sto ruotando L'immagine Per ripristinare Il valore Chiaramente C'è sempre Il nostro Tastino E poi c'è il punto Di ancoraggio Che per il momento Possiamo ignorare Un'altra cosa Che possiamo Vedere L'opacità L'opacità Sostanzialmente L'abbiamo un po' Intravista Quando abbiamo Parlato Delle dissolvenze Se io Ho Questa Immagine Di ottima qualità Sopra All'immagine Di qualità Più bassa Chiaramente Questa immagine Copre l'immagine Sottostante Perché è un'immagine Opaca Ma se io Vado a diminuire A togliere L'opacità Vedete che L'immagine Superiore Sostanzialmente Diventa Progressivamente A mano a mano Che abbasso La percentuale Sempre più Trasparente Ok E in questo caso Ho due immagini Una sopra L'altra Perché Questa immagine Come potete vedere È praticamente Trasparente Per Un buon 22% Questa immagine Invece È una bella immagine Al 100% Se vanno Una sopra L'altra Questa che è Trasparente Permette di vedere E intravedere L'immagine Che si trova Subito sotto Non vi preoccupate Se non vi è perfettamente chiaro Provate a giocare Con il parametro Opacità Capirete Stavo modificando L'immagine sotto Capirete poi Più avanti Quando parleremo Dei keyframe Come può essere utilizzato Questo parametro Per creare Cose un pochettino Un pochettino creative L'ultima cosa Che voglio mostrarvi È La possibilità Che avete Di Scalare L'immagine Quando dico scalare Intendo ridimensionare L'immagine Esattamente Alle dimensioni Del fotogramma Su cui state lavorando Come vi ho detto Questa immagine Era grande Oltre 6000 pixel Per 1700 pixel Circa Bene Se non volete Impazzire con Il valore Della scala Ma volete Con un colpo solo Far diventare Questa immagine Grande Più o meno Quanto questo frame Cliccate sopra L'immagine Col tasto destro Del mouse E cliccate Sopra Alla voce Imposta A dimensione Fotogramma Bam Vedete che Impostando L'immagine A dimensioni Fotogramma Chiaramente Premiere cercherà Di scalare Quindi Di ridimensionare L'immagine Per fare in modo Che almeno Uno dei due assi Quello orizzontale O quello verticale Arrivi a coprire L'intero L'intero frame Chiaramente Queste Queste Linee nere Che vedete Sono dovute al fatto Che Premiere Ha ingrandito Questa immagine Fin quando L'asse orizzontale È arrivato A toccare I margini Del fotogramma E non è andato Oltre Ma chiaramente Voi potete Esagerare E potete A mano Portare la situazione A coprire Tutto il frame Contemporaneamente Stessa cosa Con quest'altra immagine Vi ricordate Di default Era così Se io clicco Col tasto destro Del mouse E clicco Sopra imposta Dimensioni In fotogramma L'immagine Automaticamente Viene scalata Alla grandezza Del fotogramma Anche qui L'altezza E la larghezza Non sono Perfettamente Uguali A quelle Del mio Fotogramma In cui sto Lavorando Quindi Chiaramente Vedrete Un bordino Nero Non vi preoccupate Ingrandite Ancora Un pochettino E avrete Un'immagine Perfettamente Inserita Nel vostro Fotogramma Per evitare Di fare Questo lavoro A mano Dovete Procurarvi Delle immagini Che abbiano Lo stesso Si chiama Aspect Ratio La stessa Dimensione In altezza E larghezza Del vostro Fotogramma Ma Magari Ne parleremo In un prossimo Tutorial Per il momento Mi fermo qui Spero sia stato chiaro Se avete domande Chiaramente commentate Questo video Oppure Venite a trovarmi Sul mio sito internet www.fabbiambrosi.it In fondo Ad ogni articolo C'è un piccolo box Che vi permetterà Di commentare Quindi chiedere Domandare Aggiungere Precisare Quello che volete E se avete voglia Come dico sempre io Iscrivetevi sempre Al mio canale youtube In maniera da non perdere I video tutorial Di prossima uscita Grazie ancora Per i messaggi Che mi inviate Siete molto carini Molti mi ringraziano Molti fanno apprezzamenti Molti chiedono Fanno domande Continuate pure Il video tutorial Questo video tutorial Termina qui Tanti altri Ne Seguiranno Quindi seguitemi Grazie ancora E buon proseguimento Ciao